Allora, benvenuti alla lezione di oggi. L'obiettivo è quello di vedere assieme come è possibile andare a costruire dei grafici facendo leva sui concetti base che abbiamo iniziato a enunciare nelle lezioni precedenti su come avviene la percezione visiva. Quindi si tratta di utilizzare i meccanismi preattenzionali per cercare di sfruttare al meglio le capacità di percezione prima dell'aspetto di attenzione e di ragionamento, sfruttare i principi di Gestalt per permettere una comprensione migliore di quelli che sono i gruppi, gli elementi che vengono generati, vengono trattati assieme all'interno di uno stesso grafico. Non ripeto quanto già presentato durante la lezione pre-registrata e vado direttamente a vedere quali sono le relazioni che vogliamo andare a rappresentare. Le prime relazioni sono quelle che riguardano il confronto tra valori diversi, le ranking, quindi le graduatorie, le classifiche, i rapporti parte tutto e le distribuzioni. Questi sostanzialmente sono all'interno di un unico insieme di dati che io voglio andare a osservare. Oltre a questi ci sono una serie di altre relazioni che io voglio poter illustrare, che però riguardano normalmente due o più serie di dati, ad esempio in una serie temporale ho gli istanti di tempo e i valori di qualche misura che sto raccogliendo. Primo tipo di relazione che io voglio andare a rappresentare è data da quello che è il confronto. Io ho una serie di valori e ciascuno è associato a una categoria, un'etichetta, un nome diverso. Il mio obiettivo è quello di cercare di permettere il confronto tra i valori associati a etichette diverse. Come posso utilizzare i meccanismi che abbiamo visto la volta precedente sulla percezione visiva per fare questo confronto? Beh, allora, il modo più semplice è quello di andare a utilizzare delle barre, un tipico diagramma barre che è estremamente diffuso, che ci consente di fare un confronto tra i valori. Un aspetto fondamentale da ricordare quando utilizzate un diagramma barre è che il valore che noi vogliamo andare a codificare è codificato tramite la lunghezza della barra. Per cui, nuovo, se io vado a tagliare la barra, quindi sostanzialmente non faccio partire l'intervallo dell'asse da zero, il risultato è che le lunghezze delle barre non sono più proporzionali ai valori di partenza, e quindi sto introducendo un Life Factor. Le barre possono essere orizzontali o verticali, quindi posso andare a rappresentare le barre anche in un'altra direzione. Quando utilizzare l'una o l'altra, sostanzialmente la scelta cade nel tipo di etichette che io ho a disposizione, e dal numero di barre e di etichette, quindi categorie che voglio confrontare. In generale, se io ho dei nomi, delle etichette molto lunghi, questo tipo di rappresentazione, quindi la rappresentazione con le barre verticali, mi forzano ad avere etichette che sono brevi. Se ho etichette lunghe, cosa succede? O si sovrappongono, oppure sono costretto a metterle in verticale o inclinate, quindi sostanzialmente rendendo meno leggibili le etichette stesse. Per cui, in presenza di etichette tante o lunghe, è decisamente preferibile utilizzare una disposizione con barre orizzontali. Purtroppo, buona parte dei software che generano delle grammi a barre, automaticamente fanno delle barre verticali, indipendentemente dalle etichette. Quindi sta a noi andare a aggiustare questo tipo di rappresentazione standard, in modo che sia facilmente leggibile. Quindi, se io voglio andare a fare un confronto, posso andare a prendere una serie di dati, rappresentarli con una barra, con la lunghezza di una barra, e confrontarli. Questo è un esempio, sono dati presi dall'affluenza elettorale nelle regionali del 2018, abbiamo le regioni italiane, ordinate in ordine alfabetico, in realtà a partire dal basso, e per ciascuna di esse la percentuale di affluenza alle urne. È ovvio che con valori tutti relativamente alti, quindi sostanzialmente nessuna regione ha avuto un'affluenza elettorale inferiore al 60%, e in realtà nessuna superiore all'80%, quindi i valori sono tutti concentrati in quell'intervallo relativamente stretto, la tentazione è quella di andare a mostrare solo questo intervallo dell'asse. Quindi sostanzialmente fare un'operazione come questa. questo permette di vedere e di apprezzare molto meglio le differenze, peccato che introduca un life factor notevole. Per cui la differenza viene esagerata di oltre 5 volte. Il problema è dato dal fatto che noi andiamo a percepire il valore come la lunghezza della barra, e quindi abbiamo una impressione ingannevole di quelli che sono i valori. Posso andare a rappresentare, o cercare di rappresentare lo stesso grafico in verticale, con le barre verticali. Come vedete il risultato è che ho tutta una serie di etichette inclinate, più difficili da leggere, più difficili da identificare. Anche l'etichetta qui sull'asse verticale risulta ruotata, decisamente meno leggibile rispetto a questo. Un altro aspetto fondamentale che troviamo qua, ma su cui poi torneremo più avanti, e che commentavamo nell'ultima lezione sincrona che abbiamo fatto, è che vedete che le barre in questo caso sono tutte dello stesso colore. Io avrei anche potuto andare a colorare le barre un colore diverso per ogni regione, però in realtà con 20 regioni è molto difficile avere 20 colori che siano veramente percettivamente diversi l'uno dall'altro. Quindi il risultato quale sarebbe stato? Di avere regioni che sembravano dello stesso colore, e che quindi io avrei ragionevolmente associato tra di loro, regioni con colori diversi che io avrei probabilmente percepito come distinte, come due gruppi diversi. Quindi avrei introdotto un'informazione in più che in realtà non era mia intenzione di rappresentare. Quindi in generale, quando io ho un diagramma barre, a meno che io voglia evidenziare un gruppo di barre, in una barra specifica, il colore delle barre deve essere sempre uniforme, quindi uguale dappertutto. Il problema che abbiamo evidenziato qua, relativo all'iFactor, che deriva dall'aver tagliato la barra, spesso può essere risolto andando a utilizzare quelli che sono dei diagrammi a punti, i dot plot, dove la codifica è sostanzialmente fatta dalla posizione di un certo punto rispetto all'asse di riferimento. Quindi il numero è dato dalla posizione rispetto all'asse e la categoria è data dall'asse orizzontale e invece la categoria è data dalla posizione rispetto all'asse verticale. Allora, domanda. Se andassimo a unire i punti in questione nel grafico, la lunghezza delle rette che uniscono i punti e quindi a distanza tra gli stessi non potrebbe ugualmente contribuire alla veridicità del grafico? Allora, se io aggiungo degli elementi in più è chiaro che posso andare a influenzare. In questo caso io non ho una variazione o comunque un Life Factor, perché comunque l'80 di questo punto qui in alto a destra lo leggo sul grafico. Il fatto che sia distante più o meno dall'asse di riferimento non importa. Se io vado a unire delle rette con delle rette, con dei segmenti, i vari punti ricordiamoci che i segmenti in questo caso potrebbero darci una quantificazione di quello che è la variazione da uno all'altro, quindi l'inclinazione più o meno elevata ci dà quanto cambia. Il punto è che l'inclinazione io ho difficoltà a percepire in maniera precisa, per cui l'unica operazione che riesco a fare quando ho a che fare con delle inclinazioni è di andare a dire che uno è più inclinato dell'altro. Ecco, cambiare la scala e quindi tagliare eventualmente i punti, i valori dei punti, non mi cambia questo ordine che c'è tra le inclinazioni. Tornando al nostro caso precedente, ecco, quello che posso fare è andare a tagliare tutto in questo modo. Ora, è chiaro che in questo caso se io vado a collegare con delle linee sto creando un pasticcio perché è molto difficile, però volendo andare a vedere la variazione, la variazione tra due punti, l'inclinazione è più o meno alta indipendentemente dal fatto che io qui abbia una scala da 60-80 o da 0-80. Non ho l'i-factor perché il valore è dato dalla posizione rispetto all'asse, quindi questo è un 75, sia che io parto da 0 che io parto da 60. Tenete presente che mentre quando ho le barre la barra va dal, insomma, si estende dal valore massimo, dalla lunghezza massima fino alla base, quando ho dei punti è un po' più difficile, quindi è un po' più importante avere questa griglia sottostante. Per cui, a volte, può essere utile andare a mettere delle etichette vicino. In questo caso ho messo delle etichette che riportano sia il nome della regione che all'interno il valore numerico. Per quanto riguarda il valore numerico, l'indicazione, se volete, pratica, è sempre la stessa, sia in questo caso che in altri. Se volete avere un numero preciso, non potete affidarvi alla rappresentazione grafica, che, ovviamente, può essere più o meno accurata, l'asse può essere più o meno visibile, le griglie possono essere più o meno precise. Se volete avere una valutazione accurata da parte di chi osserva il grafico, quello che dovete fare è andare a mettere i numeri. Ovviamente i numeri non sono l'elemento fondamentale perché se io voglio andare a vedere la differenza che so tra la Calabria e la Campania, vedo che uno è decisamente più alto dell'altro. Di quanto? Beh, a questo punto mi avvicino, vado a vedere le percentuali, quindi abbiamo un 68, un 64, quindi è un 4%. Ma le etichette intervengono in una fase successiva di approfondimento. Se io mi affido alle etichette per poter capire il grafico, tanto vale usare una tabella. Un grafico non serve a nulla. Un altro modo di fare confronti di valori è utilizzare quello che si chiama uno strip plot, che può essere più o meno utile. In questo caso probabilmente i punti sono troppi e quindi è difficile fare i confronti, però se io vado a mettere i vari punti su un'unica linea, ovviamente devo andare a mettere le etichette con le categorie vicino ai punti, vedo come tutti questi valori si possono estendere. Il vantaggio di questo diagramma a punti è che occupa molto meno spazio perché sono tutti su un'unica dimensione. Ho le etichette, che funzionano bene se non sono tante, vedete che in questo caso con 20 regioni inizia già ad essere abbastanza affollato il grafico, però se non ne ho tanti, oppure se mi interessa soltanto alcuno di questi punti, immaginiamo di avere una serie di paesi europei, a me interessa sapere l'Italia, dove è messa, e quindi vado a evidenziare soltanto l'Italia, ecco che a questo punto può aver senso utilizzare un grafico di questo tipo perché è molto più compatto rispetto a uno come questo, e l'informazione sostanzialmente che porta è la stessa. Qui ho anche il vantaggio di vedere un po' la distribuzione dei dati, che nell'altro caso è un po' meno facile da osservare. Un altro modo di fare dei confronti è quello di utilizzare delle bolle, quindi ci si appoggia all'area. Con così tanti punti, con aree relativamente simili, è facile capire che è una scelta assolutamente perdente. Non è facile vedere le differenze, a meno che non parliamo da 77 e 63, quindi abbiamo già un 14%, 15% di differenza, vediamo le differenze, ma se andiamo a prendere due punti abbastanza distanti è impossibile capire chi è più grande e chi è più piccolo, se non facendo riferimento al numero che sta sopra. Ma come dicevo prima, il numero dovrebbe essere l'extra informazione del dettaglio, dovrei essere in grado, se ho fatto il grafico correttamente, di percepire le differenze senza dover andare a leggere le etichette. Quindi l'idea è che questo è molto difficile. Un altro modo di andare a fare dei confronti individuali è quello di utilizzare quelli che si chiamano degli isotype. Isotype deriva da una pubblicazione di questa coppia di ricercatori, Maria Otto Neurath, che negli anni 30 del secolo scorso cercavano delle tecniche di visualizzazione innovative e avevano inventato questo meccanismo che si chiama International System of Typographic Picture Education in cui vanno a rappresentare delle quantità non tanto con delle dimensioni, con degli attributi grafici, ma con il numero di occorrenze di una certa figura. Per cui io vado a contare il numero di omini che trovo qua e questo mi dà una misura che io posso andare a confrontare con gli altri. È ovvio che questo funziona bene se ho dei numeri interi, se inizio ad avere dei numeri frazionari oppure ho dei numeri molto alti e quindi una singola figura rappresenta varie unità e mi ritrovo con dei pezzi di figura che possono non essere ideali e che comunque decisamente sono poco precisi. Il vantaggio di questo tipo di rappresentazione è che è abbastanza facilmente comprensibile ed è utilizzato relativamente. Sicuramente la precisione non è dal suo lato, però è un altro tipo di rappresentazione. inoltre va bene se le categorie da confrontare non sono tante, altrimenti le repliche diventano tantissime, confuse e quindi sono difficili da utilizzare. Un altro tipo di relazione è quella che è di mettere in ordine, di classificare una serie di valori. Quindi sostanzialmente è un passo in più rispetto al confronto pure semplice dove mi interessa sapere chi è il più grande. Quindi di nuovo posso utilizzare sicuramente delle barre. Questa volta però vado a mettere le categorie ordinate in base al valore. Qui è importante utilizzare una qualche convenzione per cui normalmente i valori più alti, più grandi sono quelli che metto in cima, in alto e quelli più bassi, quelli più piccoli, verso il basso. Questo perché? Perché per convenzione i valori primi, principali sono quelli verso l'alto. Anche colloquialmente noi parliamo di essere in cima alla classifica. perché chi è in alto è primo. Allora, commento sul grafico ISO type. Sì, questo è più d'impatto, è più intuitivo, forse più memorabile. È ovvio che non è così preciso. Probabilmente è più d'impatto, però è molto diverso dal livello di precisione di un grafico a barre, ad esempio, o a punti, in cui posso avere una griglia e un valore molto preciso. Quindi questo è molto sommario, mentre invece i grafici, diciamo, a barre o a punti sono decisamente più dettagliati. Quindi questo dà un'idea di sintesi, mentre un diagramma a barre e dà un'idea un pochettino più precisa. Quindi il ranking sostanzialmente permette di utilizzare gli stessi tipi di grafici, semplicemente l'accortezza che devo avere è che gli elementi in alto sono quelli più elevati. Quindi diagramma a barre, diagramma a punti. È molto più facile da leggere, in questo caso. I punti potrebbero essere molto lontani dall'etichetta e quindi a volte si utilizza un diagramma che si chiama l'Hollipop a lecca a lecca che sostanzialmente lega il puntino con una linea all'etichetta. In questo caso il problema è che parziale problema è che avendo questa linea, questo segmento che sostanzialmente ha lo scopo di permettere una lettura più facile, nella mia percezione tendo a leggere il valore nella lunghezza del segmento. Se leggo il valore nella lunghezza del segmento ricado nel problema delle barre e quindi ho un life factor relativamente grande. Per cui quando ho un diagramma di tipo Lollipop tendenzialmente è preferibile avere una base zero della scala. in questo caso ho la doppia codifica perché ho la codifica sull'asse dei punti e l'altra codifica che è la lunghezza del segmento. Due codifiche che lavorano assieme. Altro tipo di relazione deviazione deviazione di un valore da qualche riferimento da qualche intervallo ok come posso farlo? Beh qui ci sono ovviamente le barre i punti le righe quindi ho diversi diversi modi di andarlo a codificare. una cosa relativamente comune che si vede molto spesso è quello di utilizzare l'analogia del tachimico del contachilometri che sostanzialmente va a riportare come fosse un indicatore analogico un valore usando questa questa che è l'ago dell'indicatore lungo una scala la scala ovviamente può avere una serie di riferimenti per cui oltre ai valori assoluti del nostro indicatore che possono anche essere riportati qua la scala può riportare degli intervalli diversi per cui quando io ho interesse a visualizzare una deviazione a me interessa capire se un certo valore sta in un intervallo oppure no quindi se è un intervallo insufficiente accettabile ottimo ad esempio quindi poter capire se la mia grandezza è nell'intervallo giusto è importante e quindi posso avere la scala con diversi colori il problema di questo tipo di visualizzazione è che occupa un sacco di spazio non è immediato da leggere soprattutto se io ho due immaginate di avere due due indicatori diversi sullo stesso grafico quindi avere due lancette diverse se ne ho una e un'altra sull'angolo io faccio difficoltà a capire quanto sono ampi di nuovo a meno di non fare riferimento alla scala ok semplicemente perché sul curvo io faccio più difficoltà a confrontare e quindi tendenzialmente sebbene questo tipo di visualizzazione sia relativamente di moda è sconsigliato perché comunque non è molto compatto ed è difficile lettura un altro tipo di visualizzazione sempre per parlare di deviazione è quello che si chiama bullet plot dove invece di utilizzare un indicatore su una scala diciamo circolare o semicircolare vado ad utilizzare una barra e quindi codifico come al solito la lunghezza tramite il valore tramite la lunghezza della barra in aggiunta rispetto alle barre al solito ho lo sfondo che mi dà le zone di riferimento per cui ho i valori che mi danno il rating del mio valore insufficiente è sufficiente ottimo in un bullet plot posso tranquillamente aggiungere anche un altro riferimento che può essere non so l'obiettivo il valore dell'anno precedente il valore del mio concorrente eccetera questo tipo di visualizzazione ha il grosso vantaggio di essere facilmente leggibile perché la barra è orizzontale non devo andare a leggere su un un angolo è compatto per cui io posso andare a rappresentare diversi valori compatati assieme per cui se devo andare a rappresentare tanti valori assieme sicuramente questo è un'ottima scelta molto più di quella del tachimetro un altro tipo di variazione che a volte può essere utile andare a rappresentare è la variazione che possiamo chiamare pre-post prima-dopo dove vado a confrontare per una certa insieme di categorie il valore in due condizioni che possono essere prima o dopo un trattamento prima o dopo un evento in occasione di un evento 1 in occasione di un evento 2 con o senza qualche attributo questo è molto comune come tipo di visualizzazione e per fare questo cosa posso fare posso sicuramente utilizzare un bullet plot come prima quindi il pre potrebbe essere questa barra verticale e il valore post è la lunghezza della scusate il pre è il trattino verticale e il post è la lunghezza della barra questa è una possibilità un'altra possibilità è quella di utilizzare quelli che si chiamano slope chart ovvero dei grafici in cui vado a codificare la variazione in termini di pendenza e quindi ho due assi in questo caso corrispondenti a due momenti diversi 2013 e 2018 sui due assi che sostanzialmente hanno la scala comune vado a riportare i valori delle stesse categorie in un anno e nell'altro e poi vado a congiungerli con un segmento la pendenza del segmento mi dà sostanzialmente l'entità e la direzione della variazione ora se io ho tantissimi valori come in questo caso è troppo complicato quindi è molto difficile lettura se invece ho un numero di categorie un po' più ridotto ecco che lo slope chart inizia ad essere utile e comodo da utilizzare per cui vediamo variazioni come in questo caso più o meno intense direzioni della variazione per cui ad esempio in questo caso ho un aumento in tutti gli altri casi ho delle diminuzioni altro modo di rappresentare variazioni pre post è quello di andare a utilizzare i cosiddetti dumbbell plot o a bilanciere anche dove vado a rappresentare con due punti distinti i valori nelle due condizioni nel prima dopo con o senza e uso un segmento per congiungere questi due valori posso utilizzare due colori diversi due tipi di simboli diversi per indicare le due condizioni e in questo caso la lunghezza del segmento che tra l'altro è anche più facile da leggere rispetto alla pendenza mi dà l'entità della variazione la direzione della variazione è un pochettino più difficile da leggere nel senso che devo andare a vedere se l'arancione che è l'anno più recente sta a sinistra o a destra del verde che è l'anno precedente quindi tutte le volte che l'arancione come in questo caso sta a sinistra significa che ho avuto un decremento se sta a destra come in questo caso ho avuto un incremento quindi anche in questo caso di nuovo ho la possibilità di avere una misura della variazione e sapere la sua entità il problema di lettura in questo caso è che le etichette delle regioni specificatamente sono lontane dal dal punto e che essendo tutti sparpagliati essendo sostanzialmente ordinate alfabeticamente non è tanto facile da leggere per cui ad esempio una possibile variante è quella di andare a utilizzare un dumbbell ordinato in base ad esempio all'anno più recente e in questo caso vedo l'entità della variazione in questo caso ho anche eliminato le etichette sull'asse verticale e ho messo direttamente le etichette sul vicino alla coppia di punti quindi la codifica della regione è comunque data dalla posizione sull'asse ma l'asse non lo vado a rappresentare metto semplicemente un'etichetta vicino ai dati di nuovo la prossimità quindi l'idea del direct labeling applicata nuovamente e ci permette di leggere più facilmente i nostri dati un altro modo di andare a considerare le variazioni che è probabilmente più comune e più facile da osservare nella grafici quotidiani è quello fatto tramite barre accopiate anche qui essendo tanti i dati il grafico è abbastanza confuso ok che cosa faccio posso andare a vedere l'anno prima e l'anno dopo se c'è stato un calo un incremento di nuovo devo andare a leggere la la categoria e poi vado a confrontare la cima per vedere se ho avuto una variazione e di che entità e in che direzione decisamente più difficile da leggere rispetto ad esempio a questo è molto più sintetico e di immediata lettura rispetto a questo altro tipo di relazione che io voglio poter andare a rappresentare le relazioni parti e tutto ok in cui ho un tutto e voglio andare a vedere quanto contribuiscono a questo tutto varie diverse parti o componenti qui abbiamo di nuovo tantissime varianti un modo relativamente insomma comune di andare a presentare queste parti ad esempio tramite barre impilate molto comuni specialmente se io non ho un'unica categoria di tutto ma ne ho tante quindi vado a mettere tante varianti quindi tante barre impilate una di fianco all'altra come funziona la barre impilata sostanzialmente ho i miei vari parti normalmente codificate con colori oltre che posizione nella barre diverse che mi danno la composizione un problema di questo tipo di grafico è che uno mentre per il primo per la prima categoria cioè quello che parte da zero è facile per me andare a leggere il valore sull'asse per le altre è un po' più complicato ok perché non partono da zero e quindi devo fare una differenza tra qui e qui quindi un po' più faticoso motivo per cui di solito è buona norma andare a riportare i valori perché se mi interessano devo andare a leggere perché non riesco facilmente a leggerli sul grafico attenzione quando generate questo tipo di grafico con excel perché non è detto che l'asse sia fatto correttamente se voi andate a mettere in excel questi valori quindi sì o no 99% e 1% il grafico che vi viene mostrato è questo ok quindi attenzione sempre al grafico di default che vi mostra excel perché non è detto che sia corretto in generale quando devo andare a mostrare i valori è preferibile se voglio andare a confrontare le proporzioni in diversi contesti o in diverse sottocategorie non utilizzare i valori assoluti come in questo caso ma bensì andare a utilizzare quelli che sono i valori percentuali quando ho dei valori percentuali posso confrontare l'uno con l'altro altrimenti non ha senso non è un confronto tra parti e tutto altro modo di rappresentare delle relazioni parti di tutto è utilizzando quelli che si chiamano dei trimap parto da un'area tipicamente rettangolare o quadrata e vado a identificare sotto aree una di fianco all'altra che rappresentano per l'appunto le proporzioni delle diverse parti il punto è che con questo tipo di visualizzazione è abbastanza difficile andare a indovinare quelle che sono le parti tra l'altro mentre in un diagramma barre io ho un asse e quindi un minimo di riferimento ce l'ho in un diagramma di questo tipo non ho un asse anche perché dovrei averne due per calcolare l'area di un quadrato devo fare base per altezza qui giusto per darvi fare una verifica secondo voi la percentuale di quest'area rossa in alto a quanto ammonta? ovviamente non vale andare a sbirciare sulla slide successiva cinque 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 era giusto per farvi toccare con mano come è molto difficile andare a quantificare delle aree per cui di nuovo se utilizzate un trimap ha un tipo di rappresentazione molto utile è bene andare a riportare le percentuali un altro tipo di rappresentazione parente di questa è quello che si chiama il grid plot o waffle plot o alla francese goffre in cui invece di rappresentare l'area come una un'area unita ho queste griglie che sostanzialmente mi danno un suggerimento mi dicono quanti quadratini oltre ai quadratini volendo si possono utilizzare anche altre forme i quadratini sono quelli un pochettino più sobri più facili da andare a calcolare ecco in questo caso ecco avendo 10 per 10 ok quindi 100 quadratini è un po' più facile andare a fare il conto ok quindi il giallo sono sostanzialmente due colonne quasi e quindi un 19 il rosso è un 2 e l'altro è sostanzialmente 7 più 8 ok quindi facendo un po' di calcoli riesco a recuperare il valore di nuovo va bene ed impatto ha il vantaggio di essere abbastanza più facilmente leggibile rispetto a questa il problema è per l'appunto come come osserva Giulia in chat che non è non è precisissimo perché se la somma degli arrotondamenti non è esatta mi ritrovo un quadratino in meno ok per cui o arrotondo in maniera così creativa perché quello lì è due e mezzo due e mezzo lo tengo a due vado a tre per cui ripeto o arrotondiamo in maniera creativa oppure se faccio un arrotondamento così standard il risultato è che ovviamente rischio di avere un quadratino vuoto tra l'altro sì se io ho delle variazioni piccole quindi meno dell'1% se immaginando di avere un 10x10 non riesco a rappresentarle potrei andare a utilizzare un pezzo di quadratino attenzione però se utilizzo dei pezzi di quadratini e ho non due o tre categorie ma ne ho di più diventa poi un pasticcio nel senso che non so bene dove inizia dove finisce una categoria e quindi il calcolo che ho fatto così ad occhio andando a contare il numero di blocchetti in orizzontale in verticale non lo faccio più tanto facilmente per cui ovviamente queste sono tutte variazioni che uno può aggiungere a seconda dell'utilità o del caso specifico ok questo è giusto per dirvi esiste anche questo tipo di rappresentazione ok abbiamo iniziato da quelle magari un pochettino più insolite ma diciamo che la rappresentazione più frequente che ho per le relazioni parti tutto è quello che è il diagramma sui diagrammi a torta allora problema 1 occupano abbastanza spazio sono molto negativo non sono tanto facili da leggere nel senso che se non ci fosse questo 2 5% difficilmente sarei in grado di quantificarlo mentre il 19 a occhio sapendo che un quarto è 25% riesco a vederlo il grigio facilmente capisco che un po' più del 75% di nuovo perché ho i riferimenti dei quarti della mia torta il 2% è veramente difficile ragione per cui se uno decisi di utilizzare un diagramma torta è fondamentale andare a mettere le etichette e i valori perché altrimenti quelli piccoli non riesco a valutarli con accuratezza e anche i confronti di solito non sono sempre facili test di nuovo senza sbirciare sulle slide in queste tre varianti qual è la fetta più ampia nel primo nel secondo e nel terzo e qual è la fetta più piccola nel primo nel secondo e nel terzo è ovvio che potete tirare e indovinare ma è per l'appunto un tirare e indovinare una possibile variante di questa rappresentazione è questa dove è evidente chi è più grande chi è più piccolo è l'ordine complessivo ora andare a utilizzare un diagramma bar invece di una torta ha il piccolo svantaggio che non è immediato capire che le percentuali sommano a 100 mentre invece di una torta è ovvio che sono le parti di un tutto se però mi interessa più andare a confrontare il contributo delle varie parti e queste sono un certo numero e non ci sono delle differenze macroscopiche ecco che le barre sono decisamente più utili domanda si può dire che l'ampiezza viene anche alterata dal colore dipende da come li scelgo allora l'unica evidenza empirica di percezione alterata dell'angolo è quando io ho un angolo verticale piuttosto che orizzontale dove l'angolo orizzontale l'angolo con la bisettrice orizzontale di solito viene percepito più ampio rispetto a quello con la bisettrice verticale sui colori tendenzialmente non c'è evidenza dipende anche da come sono combinati tra di loro da come è fatto lo sfondo ok per cui in generale a cosa servono servono i diagrammi a torta beh a rappresentare ad esempio questo il cielo il lato illuminato della piramide e il lato in ombra ok sono molto belli da vedere sono molto comuni ma hanno seri problemi percettivi quindi la raccomandazione è utilizzarli relativamente poco ovviamente in maniera corretta quando c'è una relazione parti tutto evitare di avere una leggenda a lato e il diagramma a parte ma come in questo caso mettere etichette percentuali vicino alla fetta della torta e utilizzare i diagrammi a torta quando il numero di di categorie di parti è relativamente basso diciamo fino a 4 come come linea guida così generale poi ci sono ovviamente delle eccezioni però tendenzialmente se io ho più di 4 fette è probabile che faccia difficoltà a distinguere quindi prendetelo come una linea guida dove ovviamente ci sono ci possono essere ragionevolmente delle eccezioni variante di diagrammi a torta idunat dove sostanzialmente non ho più tanto l'angolo perché la parte centrale è bucata e ho sostanzialmente questa corona circolare che mi rappresenta il valore valgono le stesse accortezze per appena enunciate per i diagrammi a torta a volte è necessario andare a fare una rappresentazione di parti tutto ma non secondo un'unica suddivisione ma secondo più suddivisioni per cui ad esempio in questo caso ho una doppia suddivisione di parti tutto quindi ho una prima suddivisione in base a la tipologia di computer diciamo così e una seconda suddivisione all'interno di ogni colonna in base a quelli che sono le diverse marche per cui all'interno dei tablet Samsung iPad e HTC all'interno dei laptop Dell Sony HP all'interno dei desktop Lenovo e Dell dove ovviamente l'ampiezza di ogni colonna è proporzionale alla percentuale di la dimensione del mercato specifico per quella categoria di dispositivi questi vengono chiamati o varianti di grid plot oppure Marimekko Marimekko è il nome di una stilista finlandese che insomma produceva tessuti con questo tipo di pattern anche tessuti con questo tipo di pattern altro modo di andare a rappresentare partitutto è quello che si chiama un diagramma pareto che parte dal principio di pareto dove abbiamo l'80-20% ma sostanzialmente l'idea è che ho le varie categorie con una proporzione decrescente quindi le categorie qui sono ordinate la prima categoria che vado a mettere qua è quella più frequente la seconda è la seconda più frequente eccetera e oltre a queste barre che rappresentano la percentuale delle categorie ho anche quest'altro diagramma a linee o punti e linee che mi rappresenta invece la distribuzione cumulativa quindi la prima barra da sola fa il 40% la prima più la seconda fanno 59 prima seconda e terza fanno il 71 prima seconda terza e quarta fanno il 79 per cento questo mi permette di andare a capire quali sono le categorie che assieme sostanzialmente fanno la maggioranza del del mio tutto molto utile se devo andare ad esempio a identificare delle priorità immaginate che di avere come categorie che so delle reparti o negozi di una catena e come proporzione la proporzione di fatturato totale è ovvio che quelli più redditizi sono a sinistra e quelli meno redditizi sono a destra quindi a seconda delle operazioni che voglio fare posso raggruppare nei più redditizi intermedi meno redditizi e quindi in questo caso il parte tutto è un parte tutto tra virgolette ordinato quindi ho un ranking all'interno del parte tutto parliamo ancora di distribuzioni quando parliamo di distribuzioni vogliamo andare a capire come i valori di un insieme o di più insiemi si distribuiscono su un intervallo di valori o tante varianti diciamo che quella più comune per andare a rappresentare una distribuzione è l'istogramma ok dalle dalle scuole elementari abbiamo il ricordo di istogramma l'istogramma funziona bene ed è sostanzialmente non ambicuo quando io ho delle categorie predefinite se però voglio andare a vedere la distribuzione di un intervallo di valori che è tra virgolette continuo immaginate che questi siano da 50 a 100 voti di laurea redditi quello che volete qui vediamo che questo intervallo qui è quello più frequente il problema è che se io vado a suddividere l'intervallo in maniera diversa è possibile che ottenga dei risultati abbastanza diversi vedete che qui tra 70 e 80 ci sono 3 6 intervalli complessivamente io ho preso il mio intervallo che va da 50 a 100 e l'ho diviso in 30 intervalli di ampiezza identica se invece di andare a identificare 30 intervalli che si chiamano bin di solito ne vado a identificare che so 13 ecco che ottengo una rappresentazione che è abbastanza diversa da quella precedente quindi 30 bin in 13 bin ok sembrano due cose diverse in realtà rappresentano esattamente gli stessi dati se da 13 passo ad esempio a 14 vedete che mi cambia abbastanza la forma questa barra qui prima del picco qui c'è e qui non c'è come faccio a scegliere in maniera corretta il numero di intervalli non c'è una risposta unica dipende dal dal mio scopo ad esempio qui ho utilizzato come criterio il numero di intervalli a volte può essere più utile utilizzare un altro parametro che ovviamente è correlato ovvero l'ampiezza del singolo intervallo quindi voglio avere intervalli che hanno un'ampiezza di un'unità di 10 unità a seconda del tipo di dati che mi trovo ad analizzare quindi attenzione quando avete a che fare con degli istogrammi perché non è detto che un istogramma che generate sia quello più fedele o più accurato che risponda meglio alle vostre esigenze la risposta fondamentale è quanti e come sono messi i bin attenzione perché oltre al numero anche l'allineamento cioè parto da 0 cioè parto da 50 parto da 50,5 parto da 51 spostare anche di mezza unità l'inizio del divisione di bin può crearvi degli istogrammi che sono profondamente diversi quindi molta moltissima attenzione anche quando fate degli istogrammi perché sembrano banali ovvi ma non lo sono e soprattutto non sono univoci un altro metodo di andare a rappresentare delle distribuzioni soprattutto se ho tanti dati e sono uniformi è quello di usare quello che si chiama un poligono di frequenza dove sostanzialmente l'approccio è identico a quello dell'istogramma solo che invece di avere delle barre ho dei punti e soprattutto i punti sono collegati a delle linee in questo caso è consuetudine andare a colorare riempire l'area sottostante la curva andando a suggerire che di fatto l'integrale di quella curva è il 100% di nuovo anche qui i punti però quelli che sono collegati dai vari segmenti della curva dipendono da quanti sono i bin e come sono messi quindi di nuovo non è detto che ci sia un'unica variante ok attenzione a non fare bin troppo grandi perché a quel punto vi perdete i dettagli quindi vi perdete se voi guardate questo histogramma e lo confrontate scusate questo poligono di frequenza lo confrontate con questa con questo histogramma vedete che questo pic questo scusate questo avvallamento che c'è qua voi non ce l'avete nel nell'istogramma perché evidentemente qui non ricordo quanti punti ho utilizzato manca il dettaglio e quindi probabilmente ho usato troppi pochi bin e quindi non vedo che c'è un calo di frequenza in corrispondenza di un certo valore quindi attenzione con i poligoni di frequenza e con gli histogrammi provate diverse varianti finché trovate quella che vi soddisfa questo se voi volete avere una visione molto specifica dettagliata di come distribuito un valore se invece vi interessa una visione molto più sintetica e di alto livello quello che potete fare è andare a utilizzare un box plot che cos'è un box plot è un diagramma fatto in questo modo in cui abbiamo questo scatolotto in mezzo da cui il nome di box plot e i due baffi sopra e sotto che cosa significano i vari elementi allora questa linea pesante intermedia è la mediana ovvero metà dei valori stanno sopra e metà dei valori stanno sotto attenzione media e mediana sono diverse qui stiamo parlando di mediana non di media vado a identificare minimo e massimo e poi vado a identificare quelli che sono il primo e il terzo quartile il primo quartile è il valore tale per cui un quarto dei valori del mio insieme è più piccolo di quel valore dato il terzo quartile è il valore per cui tre quarti dei valori sono più piccoli la mediana è il valore per cui metà dei valori sono inferiori quindi questo è una rappresentazione molto sintetica il vantaggio dei box plot è che a volte posso andare a illustrare quelli che sono degli outlier come faccio a identificare qualcosa come un outlier sono dei valori che sono molto lontani da quello che sono i valori normali normalmente la regola è prendo la distanza che c'è tra il terzo e il primo quartile quindi sostanzialmente l'altezza di questo scatolotto la moltiplico per 5 se un valore dista dalla mediana più di 5 volte questa distanza interquartile significa che è un outlier quindi significa che probabilmente lo possiamo considerare come un qualcosa che è decisamente fuori dalla norma e quindi degno di essere osservato con più attenzione ed eventualmente dopo un'analisi scatato una versione un pochettino più raffinata del box plot è quello che si chiama violin plot che è sostanzialmente fatto da due poligoni di frequenza specchiati e messi in verticale ok uno rispetto all'altro il violin plot ovviamente non ha il dettaglio di un poligono di frequenza completo però ci dà un po' di dettagli in più su come sono distribuiti i dati ok un po' più dettagliato rispetto a quello che è un box plot i box plot erano nati l'ideatore dei box plot era John Taki quindi anni 70 quando la generazione automatica di diagrammi era molto difficile da fare con il calcolatore e per cui i box plot erano pensati in modo ad essere disegnabili facilmente con una penna e un righello è facile con penna e righello disegnare questi facendo semplicemente dei conteggi disegnare a mano questo inizia a essere molto più complicato richiede molte più più attenzioni ok nell'altro a me basta avere i cinque numeri che sono minimo massimo primo secondo e terzo quartile e ho fatto tutto con cinque numeri riesco a disegnare il box plot una variante a volte utilizzata è quella di utilizzare contemporaneamente il violin plot e il box plot perché il box plot sovrapposto da violin plot ci dà un'informazione un po' più grezza ma più sintetica di dove sta il grosso dei dati sostanzialmente qui ci dice che metà dei dati è in questo intervallo intervallo che corrisponde all'altezza della nostra scatola a parte centrale e queste sono sostanzialmente le tecniche che posso utilizzare per andare a rappresentare singole distribuzioni e a volte però è utile andare a rappresentare più distribuzioni e confrontarle ora se io ho più distribuzioni è un po' difficile andare a utilizzare un histogramma anche perché ho due histogrammi uno di un gruppo l'altro dell'altro non riesco a capire e a confrontarli bene posso volendo se ho due soltanto distribuzioni utilizzare quelli che sono diagrammi a barre o histogrammi divergenti come quello che vediamo qua per cui ad esempio qui ho uomini e donne o la percentuale la distribuzione delle persone per varie fasce d'età leggibile mi dà mi dà l'idea della distribuzione della piramide nelle varie fasce d'età e è abbastanza compatto è ovvio che se avessi due diagrammi a barre sovrapposti e quindi nella stessa direzione avrei molta difficoltà a leggerli per cui essendo divergenti riesco a confrontarti bene un'alternativa se ho più di due distribuzioni è quella di utilizzare dei poligoni di frequenza questa volta non con l'area ripiena ma semplicemente il poligono in sé e quindi vedo come variano le distribuzioni è relativamente semplice oppure se non mi interessa questo livello di dettaglio dei poligoni di frequenza posso utilizzare dei boxplot più boxplot contemporanei in effetti i boxplot qui danno un grosso contributo perché sono sintetici non sono difficili da interpretare e quindi ho la capacità senza perdermi i dettagli di ogni singola distribuzione di confrontare diverse distribuzioni vedo dove sta il grosso di una distribuzione piuttosto che di un'altra o di un'altra ancora e vedo immediatamente con un colpo d'occhio come queste tre distribuzioni di dati si confrontano se voglio un po' più di dettaglio posso utilizzare un violin plot altro esempio di visualizzazione di tante distribuzioni torno qua allora il primo quartile mi indica il valore per il quale un quarto dei dati è più piccolo di questo valore il terzo quartile è il valore per cui tre quarti dei dati sono più piccoli oppure un quarto più grande per cui l'intervallo tra il primo e il terzo quartile è l'intervallo in cui la parte centrale cioè la metà centrale dei dati si trova per cui è dove il grosso dei dati si trova tendenzialmente se immaginiamo di avere delle distribuzioni che siano vediamo qua simil normali quindi hanno una parte centrale il box plot che cosa fa mi identifica nel primo e terzo quartile questa parte centrale che corrisponde alla parte più importante dei dati allora l'outlier ci torniamo poi parlando di richiami di statistica l'outlier però è un valore che è molto molto lontano per cui torno un attimo indietro all'istogramma che forse c'era un esempio interessante vediamo un po' se riesco a recuperarlo eccoci qua vedete che qui buona parte dei dati stanno qui in questa zona centrale tra 70 e 80 grosso modo insomma non voglio andare a dettagliare ulteriormente ci sono dei dati che invece sono molto diversi dagli altri per cui andiamo a prendere questo questo 53 52 è molto strano anche quest'altro qui scusate quest'altro qui a 95 sono dati che sono molto lontani dagli altri se io raccolto dei dati con delle misure ad esempio o in altro modo e ho dei dati che sono molto molto isolati pochi molto molto diversi dagli altri posso avere sospetto che ci sia stato qualche errore se io che so assegno un tema d'esame difficilissimo quasi impossibile da fare e praticamente tutti gli studenti hanno dei voti che vanno da 20 a 22 e ce n'è uno che prende 30 il sospetto mi viene che quell'1 sia un caso particolare come faccio a identificarlo lo identifico andando a prendere la mediana cioè prendo un valore per cui metà dei valori sono più piccoli e l'altra metà sono più grandi vado a vedere la larghezza del nostro ve lo spiego sul boxplot che è più facile vado a prendere l'ampiezza da primo a terzo quartile e se un numero se un valore è 5 volte più distante dalla mediana rispetto a questa distanza tra il primo e il terzo quartile lo considero come un outlier e allora potrebbe essere 3 potrebbe essere 5 potrebbe essere 4 e mezzo 8 ok è un valore convenzionale normalmente si usa 3 o 5 come rapporto è un valore che mi identifica una soglia oltre la quale i valori possono essere considerati sospetti poi una volta che ho identificato un sospetto cosa faccio vado a vedere nel dettaglio a cosa si riferisce potrebbe essere un valore assolutamente legittimo e quindi è soltanto un potenziale outlier oppure potrebbe essere nel caso dell'esempio dell'esame uno che ha copiato l'esame oppure è qualcuno molto bravo ok non lo posso sapere a priori so solo che ho identificato dei casi particolari che meritano più attenzione ed è un qualcosa che in generale dovete sempre fare ogni volta che voi avete a che fare con dei dati guardarli fare dei box plot dei violin plot delle distribuzioni andare a capire se ci sono dei dati anomali una volta che avete identificato i dati anonomi le avete anomali le avete verificati e avete deciso eventualmente di scartarli allora potete proseguire con la vostra analisi ma finché non l'avete guardati ecco è possibile che ci sia dei dati sporchi qualcosa che non c'entra nulla un paio un paio di esempi veloci qui abbiamo tanti tante distribuzioni che fanno riferimento a uomini e donne reddito e vedete qui in orizzontale il tipo di educazione che hanno avuto nessuna quindi sostanzialmente scuola dell'obbligo e degree quindi un diploma di terziario quello che notiamo guardando queste distribuzioni è che tendenzialmente le retribuzioni maschili sono sempre maggiori per ogni gruppetto di quelle femminili è ovvio che ci sono gli outlier per cui questa persona guadagna più di buona parte degli uomini però il 75% perché questo estremo qua è il 75% guadagna meno della metà più alta degli uomini ok quindi è evidente che c'è una disparità di trattamento considerazione direi appropriata visto l'8 marzo per cui da qui è evidente che c'è una disparità di trattamento e quindi i decisori politici dovranno in qualche modo adoperarsi perché questa disparità venga ridotta stesso tipo di diagramma identico stessi dati visualizzato con un violin plot e il box plot sovrapposto e vedete che c'è un po' più di dettaglio ma non tanto attenzione la visualizzazione delle distribuzioni può essere molto utile ci dà molti dettagli una scelta alternativa è quella di dire va bene vado a prendere le medie quindi invece di andare a prendere tutte le distribuzioni e quindi mostrare il dettaglio che abbiamo visto prima posso andare a prendere le medie di una certa categoria e quindi ho il punti e basta se vogliamo un po' di più possiamo andare a mettere l'intervallo quindi ad esempio la deviazione standard il livello di dettaglio dipende da cosa voi volete andare a mostrare ok questo è il minimo dettaglio ho preso la media ho aggregato oppure qui ho la il violin plot con il poligono di frequenza il box plot che mi dà un'informazione un po' più veloce aggregata che mi dà tutte le informazioni che voglio quale scegliere beh sta a voi e dipende dall'obiettivo che vi ponete nell'andare a generare un grafico che informazione che messaggio volete far passare attraverso il vostro grafico direi che per oggi abbiamo raggiunto l'ora finale e quindi la lezione si chiude qua allora c'è una domanda domanda quando si usa un box plot è necessario spiegare allora è ovvio che io non vado ad utilizzare un box plot ad esempio in un in un articolo per un quotidiano ok perché è probabile che l'utente medio non sappia cos'è in un contesto di report scientifico o di articolo scientifico invece il box plot è un qualcosa che è abbastanza utilizzato quindi in quel contesto tendenzialmente non è necessario andare a spiegare se vi ritrovate in un contesto intermedio quindi non è un articolo scientifico in cui mi aspetto che chi legge sappia già cos'è un box plot può essere utile andare a riepilogare riassumere velocemente come leggere il box plot ma questo vale per qualunque tipo di visualizzazione se non è una visualizzazione abbastanza standard può essere utile andare a definire delle informazioni per leggere meglio il diagramma si qualche istruzione in funzione di quello che è il target può essere utile aggiungere ok che è un'altra che è un'altra